La musica nuova con la musica vecchia Più di dieci anni fa mi è capitato di iniziare un'avventura che ci ha portati in giro per il mondo a condividere grandi cose in una piccola magia e questa sera è la prima volta dopo tanti anni che voglio far ritornare questa magia Questa magia aveva un nome, Eiffel 65 La musica nuova. 9, 8, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Grazie a tutti! Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità indifferente? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità indifferente? Alba azzurra! Alba azzurra! Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Alba azzurra o alba chiara, nel nudo di grido di blu, cosa resterà un centro di gravità? Grazie a tutti.